Juventus, la sentenza non arriverà oggi. La procura chiede rinvio e nuovo processo. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Juventus, è il giorno della verità e del giudizio che potrebbe confermare o disturbare la classifica di Serie A, è iniziata alle 14.30 nel Salone d'Onore di Palazzo H a Roma, l'audizione presso le sezioni unite del Guarantè College del CONI per discutere la penalizzazione di 15 punti in campionato per la Juventus in caso di plus valenze. Il processo, iniziato alle 14.30, si è concluso alle 17.10 con il verdetto che non arriverà stasera come previsto, ma più probabilmente domani. Il Consiglio può solo annullare o confermare la pena, ma non può modificare la sentenza, ad esempio, riducendo i punti di penalità per i bianconeri. La sentenza impugnata è errata, piena di errori, per cui abbiamo chiesto l'annullamento senza rinvio. Juventus è già stata assolta da una decisione definitiva del 22 maggio, l'ha detto Maurizio Bellacosa, avvocato della Juventus, durante il processo, ho appena concluso, per il ricorso al collegio di garanzia presentato dal club Juventus. Cotoro il meno 15 in qualifica per le plus valenze caso. Che cosa è cambiato? Le 14.000 pagine degli atti torinesi sono arrivate, ma c'è davvero qualcosa da dimostrare sui valori gonfiati? No, c'è solo un contesto generale. Niente da cambiare la soluzione di maggio. Credo che il lavoro del procuratore della FIGC fosse corretto. Posso quindi dire che gli argomenti opposti non capiscono il punto e credo di confermare l'ipotesi accusatoria e quindi sono per l'inamissibilità della pronuncia, ha spiegato Ugo Taucher, procuratore generale dello sport, che all'udienza presso il collegio di garanzia di meno 15 Juve ha sostenuto l'accusa. Ma con un'eccezione, per quanto riguarda l'articolo 4 dal punto di vista della mancanza e di ragionamento, temo che in realtà il profilo di mancanza, nella pena in punti per la squadra, ci sia una carenza da valutare in un nuovo processo del Tribunale federale. Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla.